boicotteranno l'acquisto al day one di Shenmue 3 perché esce su Epic Launcher e questo mi fa venire in mente una cosa che se Shenmue 3 non vende significa che sono tutte cavolate che i fan lo volevano con questo seguito come tempo fa non è fu nessuno interessato dei due Shenmue perché sono usciti sulla console morta ma il fatto che escono su console morte o su launcher morti è solo una scusa per non acquistare un titolo io da ragazzino e tutt'ora compro una console per le killer application io comprei lo SNES per Super Mario World e Killer Instinct la PSX per Final Fantasy VII e Crash Bandicoot l'Xbox l'ha preso solo per giocare a Fable l'Xbox 360 solo per giocare Mass Effect e Wii U? io possiedo Wii U solo perché è l'unica console che possiede Splatoon o perlomeno possedeva qui mi dovrei incazzare io visto che Nintendo dopo che gli ho comprato la Wii U e con Splatoon mi ha fatto uscire Switch con Splatoon 2 e ora ci fa pure i tornei fa un culo Nintendo e questo è il senso del mio discorso cioè se tu sei interessato a un gioco cavolo ti compri la console ovunque esca il gioco se sei veramente interessato e poi non te ne frega un cazzo e lo vuoi solo come titolo di contorno scegli la console che ha le esclusive migliori quindi se la gente vuole boicottare Epic Games per Shenmue 3 vuol dire che non gli interessa Yusuzuki non gli interessa far guadagnare su Yusuzuki e non gli piace come saga Shenmue è l'unica spiegazione perché se io so che Shenmue è presente solo lì io l'ho di scatto non me ne fotte un cazzo poi me lo ricompro anche su Steam come ho fatto con Quantum Break o Killer Instinct che li ho comprati sull'Xbox Store per PC e poi li ho acquistati da capo su Steam a un prezzo di scontato giusto perché volevo possedere su Steam che è più affidabile dell'Xbox Store quindi se la gente è veramente interessata a questo titolo lo compra dove viene distribuito a maggior ragione dovrebbe preferire Epic se stima Yusuzuki perché si guadagna di più cavoli e si aiuta Yusuzuki a continuare a sviluppare videogiochi ma invece questi utenti che si sono lamentati vuol dire che non gliene fotte un cazzo sono solo lì per blaterare come al solito io non credo che questi che si stanno lamentando sono quelli che hanno partecipato al Kickstarter non ci credo minimamente voi che ne pensate? siete d'accordo con me? oppure pensate che è da stupido comprare una console solo per una killer application? fatemelo sapere nei commenti